Perché è importante il linguaggio? Il linguaggio è l'elemento fondamentale del lavoro dell'insegnante Ogni insegnante deve modulare il proprio linguaggio in base alle persone che ha davanti Quindi se qualcuno avesse delle difficoltà nei diversi argomenti trattati nei video Me lo può fare presente nei commenti Sarà mia cura, eventualmente, essere più chiaro, più esplicito Perché se una persona non capisce, non è colpa spesso, non è colpa di chi ascolta Ma di chi comunica Che a volte utilizza delle parole e delle costruzioni non appropiate E confonde colui che ascolta E fa sì che chi ascolta non capisca Ciao a tutti, al prossimo video Vi aspetto